Con Claudio Succio, subito dopo la fine dello spoglio, una vittoria che non era così scontata, nel senso che bisogna sempre giocarsela col quorum, ma i bairesi hanno dato pieno consenso e piena fiducia a te e al tuo gruppo. Sì, sono veramente soddisfatto perché c'è stata un'affluenza al voto importante, con il 58,45% di affluenza, in concomitanza di un referendum che era un po' privo di interessi all'interno della nostra comunità, ma non soltanto all'interno della nostra comunità, questo referendum è stato un po' con meno interesse. Pertanto avevo paura che anche l'affluenza al voto non arrivasse al 40%. Però, come ho sempre detto in campagna elettorale, conosco i miei concittadini, ragioniamo nello stesso modo e abbiamo voluto premiarmi per una riconferma. Siamo soddisfatti, ma non sono soddisfatto solo io, mi ha soddisfatta tutta la squadra, è una squadra anche ringiovanita che sicuramente si impegnerà, lo abbiamo già dimostrato anche sabato, dove abbiamo fatto una giornata dedicata allo sport, al podismo, dove abbiamo avuto tantissima affluenza. Comunque sono veramente soddisfatto e cercherò di impegnarmi con tutta la squadra per i prossimi cinque anni per migliorare la qualità della vita dei miei concittadini. Sindaco, da dove ripartirete dopo questi primi cinque anni? Qual è la vostra priorità? La nostra priorità sarà sempre comunque l'ambiente, cercare di migliorare il nostro paese perché soltanto attraverso l'attrazione questi piccoli comuni potranno sicuramente attrarre dei benefici. Quindi attraverso la percezione della qualità della vita, della qualità dell'ambiente, sicuramente potremo avvicinare dei nuovi residenti e possiamo avvicinare a delle visite a Bairo e alle sue infrastrutture. Questo sarà il punto di partenza e poi sicuramente saremo sempre impegnati per quelle che saranno le manutenzioni del territorio, le manutenzioni degli edifici, dove andremo sempre a caccia di quei contributi necessari per poter mantenere e manutenere, come si suol dire, le infrastrutture. Un tuo elettore ha definito Bairo come un paese svizzero sia per quanto riguarda la precisione ma soprattutto per la pulizia. Cosa ne pensi? Sì, sono soddisfatto di aver ricevuto così questo elogio da questo amico, questo mio concittadino, da questo mio concittadino perché vuol dire che abbiamo dimostrato che questi cinque anni sono stati comunque, diciamo, l'abbiamo posto come obiettivo di migliorarlo nella qualità dell'ambiente e della pulizia, del concentrico, del ricetto. Sicuramente una Bairo più bella, sicuramente più attraente. Prima hai giustamente precisato che il gruppo che ti affiancherà nei prossimi cinque anni è un gruppo di molti nuovi, giovani, quindi anche iniziare a lavorare anche per il futuro del paese attraverso queste nuove generazioni. Certo, sicuramente cosa mi soddisfa? Che sono riuscito a portare quella mentalità di trasmettere la passione, la passione per il territorio, la passione per il nostro paese perché da dove è partito tutto questo? Anche dalla riapertura di tante infrastrutture che erano chiuse, in primis la società, che era il punto di aggregazione del paese e che qui dalla piazza nascono i confronti e nascono quelle che si chiamano i progetti e le idee perché soltanto attraverso, lo dico sempre, il confronto tra con cittadini si riesce, diciamo, a migliorare la qualità sia della vita che la qualità del paese. Quindi è una cosa molto importante questo.